Il presidente della Trentino Volley, Diego Mosna, rivela un forte interessamento per il calcio Trento. Luca Bindi. C'è questa possibilità con il Trento Calcio oppure là? C'è sempre una possibilità di collaborazione, è qualcosa che stiamo parlando, discutendo dall'anno scorso. Ci potrebbe essere una collaborazione nostra, mia personale o di altri per aiutare questo progetto che si sta dimostrando importante. Se sono rose fioriranno. Insomma, se sono rose fioriranno tra Mosna e il Trento Calcio di Giacca con il patron della Trentino Volley, presidente Mosna, se l'operazione Trento Calcio dovesse andare in Porto, la domenica si sdoppierà tra stadio, Bria Masco e Palazzetto? Beh, ci saranno anche forse quelle eventualità. Sì, 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 sì.